Se il Regno di Dio è una grande rete che raccoglie ogni genere di pesci, allora il discepolo del Regno è un sapiente che sa discernere quello che gli viene incontro senza l'ottusa pretesa che esso si presenti sotto una specie soltanto. Talvolta il discernimento è chiaro, talvolta non possiamo sapere se una strada sarà quella giusta, se un'esperienza sarà praticata nei modi migliori, se c'è un'occasione o se c'è una tentazione. Allora il discepolo sapiente del Regno si ferma perché si rende conto che il giudizio non è nelle sue mani. Il giudizio finale spetta agli angeli che verranno e metteranno luce nei segreti, discernendo la verità di ogni cosa. Ma il discepolo del Regno continua il suo cammino, vive in questa grande rete che raccoglie ogni genere di pesci, è aperto con fiducia e speranza a tante esperienze, a tante situazioni nuove, custodisce anche quelle antiche. Gli altri restano sulla spiaggia con la loro retina, quella dei bambini, che si usa per raccogliere le meduse. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.